Ciao non riesci a spendere su un altro c'è bene il problema la storia di queste mincelecche non riesco a fare e che poi le cose è lo spazio puoi ripigliare tutte e poi prendere ogni cosa che è un po' 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 Grazie. Ok. Battle Fights. E l'impatto. Faccio l'affetto a vedi. C'è quando viene rimosso dal tavolo. Quando lascia il tavolo. C'è quando va dentro. Ce qu'è questo? E quando lo fai qui è, c'è il velo. Sopra c'è per il canne. E a tutti ieri. Non sono un riuscito. è. Prendiamo tutto. Dessere un riuscito. E c'è questa è un tassi. E poi c'è un riuscito. . . . . . . . Grazie. Oh no, io neanche ti chiedo, la vista è che io non prendo la schiena. Passo. And the face. Faccio affetto. Sempre and the face a te. Faccio compagno. Faccio. 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 C'è normale non? Faccio. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. fatto però adesso non 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 ciao 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 si si quanto perdi? una mezz'oretta? si 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 vediamo ok eh dico noi una mezz'oretta la perdiamo poi se ne perdono un po' di più mi preoccupo di più se fate prima voi questo è il problema no? se fate tardi va bene va bene dai mi avvisi appena va bene va bene non lo so quella che spacca quella che bufa quella che spacca e quella che la una non non si non non ẩ invece di invece anzi così lo puoi fare se c'è il se Gli effetti sono annunciati, quindi non penso. Gli effetti sono annunciati, quindi non penso. Gli effetti sono annunciati. Gli effetti sono annunciati. Grande, alla prossima. Spaccavo. Qual è la stessa? Di setteci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè che aspettavamo a loro. Guarda, il Claudio si è più bella. Va piano. Non può essere, dice. Vengono sempre in ritardo. È ammalato. È impazzito. Ce l'ho con te. Doppia faccia schifosa. Eh? Doppia faccia schifosa. Prima si comporta bene, allora io... È possibile. Già tipo alle sette e mezza è la finita. Se questo individuo all'arrino... Tu già le tre devi essere qua. Le tre devi essere... Ecco. Io pure. Io pure devo mangiare. Ma sono frattacchi. E' la mia. Ora. Perché non ha giocato? Si fa a studiare. Si fa a studiare. Si fa a studiare. Dopodiché non lo fanno uscire se a studiare. Ma... Ha detto che va male. Eh? Ha detto che tu era la scuola. Vabbè. Vero. Perché non? Vai, tu pu... Non te non diranno, eh? No. Non oggi. Vai! Ah, sì! Lo vuoi? Mi metti salati a... Ti ho avuto... 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 Perfetto. Passi, passi, guardi. Non vai mai mai passi. Ok. 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 Questa è una volta. Entra in botte. Ok. E' un caso. 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 Grazie. 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 Questa è una verina. Ho troppe carte. Chi ci vuole? Gioco pronto? Buon anno. Sì si, siamo una multiplayer. Sì si, siamo una multiplayer. No no, ancora non abbiamo finito. Non abbiamo finito, ciao, ciao, ciao Neggett Non lo sa che è solo un'altra Asci pure le collezze contro altre Compaio, che dovevo fare? Guarda, c'era un'altra lì Potevo spaccare di qua domani Ho briccato con questo tre marionette, che è schifo, ho visto pure il tag Ti poteva servire solo a judgment contro l'animato Anche se partivi forte avevo... Evening match Ma è finita, manca Avevo il trentista Avevo il trentista e le settate Finita Questa?